Un tablet per consentire agli anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite della Toscana di rimanere in contatto visivo con i familiari anche nella nuova fase dell'emergenza Covid. Tablet come questo che vedete nelle immagini, consegnato dall'assessore al diritto alla salute della regione toscana Stefania Saccardi alla RSA Le Civette di Firenze, una delle residenze sanitarie assistite toscane, a cui saranno consegnati gli 11 tablet rimasti del totale di 50, la cui consegna negli ospedali toscani è iniziata il 23 aprile scorso, per aiutare i pazienti a superare il lungo periodo senza visite dei parenti come disposto dalle norme anti-Covid. Noi adesso portiamo in questi giorni, tra oggi e domani, un po' in tutte le aree vaste della Toscana, naturalmente alle RSA gestite dall'azienda sanitaria, gestite dal pubblico, questi tablet e li abbiamo già donati anche ai reparti Covid degli ospedali. I tablet consegnati agli ospedali e alle RSA toscane sono stati acquistati da Ester attraverso la campagna di donazioni sostiene gli ospedali della Toscana e saranno di grande aiuto anche nei prossimi mesi. Andremo incontro ad una piano piano limitata riapertura, ma ancora saranno mesi nei quali non è che ci potrà essere la possibilità di accesso continua come prima per i parenti e quindi sarà fondamentale continuare a mantenere questi rapporti. Nell'arco di pochi giorni sarà completata la consegna degli ultimi tablet rimasti ad altrettante residenze sanitarie assistite della Toscana.